mi appello a voi anime dannatamente social per realizzare il flash mob più mostruosamente divertente di questo e dell'altro mondo vi aspetto sabato 6 ottobre a gardaland davanti al castello di mago merlino alle ore 11 e 30 mi raccomando indossate l'abito più mostruoso che c'è nel vostro guardaroba e imparate questi semplici passi sabato 6 ottobre se sei vestito da mostro a gardaland magic halloween entri solo a 10 euro mi raccomando non mancate